Sappiamo ormai quanto nelle opinioni pubbliche la finanza sia per lo più stereotipata soprattutto con stereotipi negativi che ritraggono la finanza in un mondo brutto, cattivo e inutile In realtà qui su Whatsapp Economy abbiamo cercato di smontare alcuni stereotipi ad esempio come funziona normalmente un fondo comune di investimento oppure ancora a cosa serve la finanza abbiamo dimostrato quanto in realtà la finanza sia molto spesso più buona che cattiva Ma in tutto ciò esiste una finanza etica, una finanza che pensa verso il prossimo magari con un occhio da ambientalista oppure ancora che combatta alcune tematiche come ad esempio la disuguaglianza non solo di genere ma anche razziale Ecco, come nelle altre tematiche anche in questa domanda ci siamo lasciati aiutare qui su Whatsapp Economy da Jacopo Massei che è il business development di Gimme5 che ormai è uno sponsor quasi storico di Whatsapp Economy Gimme5 è un'app che è sostanzialmente un salvadanaio digitale infatti grazie a pochi e semplici passi potrete iniziare a risparmiare un po' dei vostri soldi Il concetto fondamentale di Gimme5 è quello della democratizzazione del risparmio cioè dell'accessibilità al risparmio in quanto pensano che sia uno degli elementi fondamentali della propria finanza personale e quindi hanno permesso a tutti di accedere a questa pratica del risparmio anche addirittura da 5 euro da qui il nome appunto di Gimme5 Gimme5 non solo vi fa risparmiare soldi ma ve li fa anche investire infatti grazie a pochi e semplici passi potrete investire i vostri risparmi nei mercati finanziari in modo da tutelare il vostro risparmio dall'inflazione Gimme5 ci tiene particolarmente anche all'educazione finanziaria tema che peraltro è molto a cuore anche qui su Whatsapp Economy addirittura nell'app c'è una sezione dedicata interamente all'educazione finanziaria e quindi quando mi hanno chiesto di collaborare invece di presentarvi solamente il servizio di Gimme5 che è sicuramente valido ne ho approfittato per creare dei contenuti che potessero essere utili anche alla mia community con il codice sconto Economy5 durante la fase di iscrizione a Gimme5 potrete ottenere 5 euro bonus e oltre a ciò potrete ovviamente supportarmi nella mia attività di divulgazione economica e quindi Jacopo esiste una finanza etica? negli ultimi 5 anni sta diventando sempre più importante un po' per tutti anche per noi soprattutto per la nostra generazione dare un occhio al nostro pianeta e quindi attuare dei comportamenti che ci permettono di preservarlo per le generazioni future e questo movimento qua oltre che essere personale dal punto di vista dei soggetti si sta un po' portando anche nella finanza quindi anche i forti investitori stanno cominciando a premiare quelle aziende che si comportano in una maniera corretta quindi magari che inquinano di meno oppure che creano delle forme importanti per inquinare di meno che vanno a investire su qualcosa che possa portare beneficio al pianeta e alla persona eccetera eccetera ed è per quello che sta nascendo soprattutto nel nostro mercato delle forme di investimento che si chiamano ISG che sono diciamo sull'environment proprio e ad esempio noi ne abbiamo lanciato anche uno recentemente che tra l'altro si può prendere anche direttamente da GimmeFive che è un fondo che proprio va a investire su quel tipo di aziende che secondo me sono meritevoli e quindi diciamo oltre a investire e a dare del denaro a delle aziende che possono crescere quindi creare posti di lavoro e quindi aiutare l'economia reale in più si sa che si sta investendo in qualcosa per cui potenzialmente dovrebbe beneficiare il pianeta praticamente Jacopo ci ha raccontato che effettivamente la finanza si sta avvicinando sempre di più a delle tematiche sociali sempre più sentite soprattutto ultimamente come ad esempio quella del cambiamento climatico in particolar modo Jacopo ha citato l'acronimo ISG che sta per Environmental, Social and Governance è un acronimo che sa indicare dei criteri per valutare al meglio degli asset finanziari se infatti fino a 20-30 anni fa uno dei metodi principali per valutare gli asset finanziari era quello della remunerazione dell'asset quindi quanti praticamente soldi mi faceva fruttare quel determinato asset finanziario in realtà man mano la finanza si è evoluta principalmente grazie a Kofi Annan il segretario generale dell'ONU che nel 2005 propose direttamente ai mercati finanziari di introdurre dei nuovi criteri per valutare gli asset finanziari da questa proposta di Kofi Annan nacquero i principi per un investimento responsabile che proprio incorporano questi criteri ISG ma cosa sono essenzialmente questi criteri? questi criteri permettono all'investitore non solo di valutare l'azienda da un punto di vista di redditività ma anche da un punto di vista di quale impatto ha l'azienda nei confronti della società che gli sta intorno in particolare quale impatto ha l'azienda nei confronti dell'ambiente quanto è sostenibile quanto inquina quali fonti energetiche sta utilizzando eccetera eccetera e qui ovviamente va al primo criterio cioè quello dell'environment il secondo criterio cioè quello del social va a valutare quanto l'azienda rispetta alcune tematiche sociali tra cui ad esempio il lavoro minorile i diritti dei lavoratori oppure ancora l'uguaglianza non solo di genere ma anche razziale all'interno dell'azienda e quanto l'azienda si impegni a creare un ambiente di lavoro il più possibile felice l'ultimo criterio cioè quello della governance va a valutare altri aspetti aziendali come ad esempio il management team chi c'è dentro cosa fanno oppure il rapporto con gli azionisti il livello di retribuzione dei dipendenti il rispetto della meritocrazia la retribuzione dei manager e tanti altri aspetti come vi dicevo da questa proposta del 2005 i criteri SG e di conseguenza anche i principi per l'investimento responsabile sono diventati sempre più importanti e più influenti all'interno del mondo finanziario addirittura a questi principi hanno aderito JP Morgan oppure BlackRock fondi di investimento tra i più importanti del mondo e proprio come diceva Jacopo anche su GimmeFive potrete investire i vostri risparmi su un fondo di investimento che ha all'interno aziende che rispettano questi criteri ESG e quindi con aziende che hanno a cuore non solo l'impatto ambientale del proprio processo di produzione ma anche tematiche sociali e di governance dell'azienda ha come ASGR società di investimento che gestisce l'app GimmeFive e la stessa app non rispettano ancora i criteri ESG ma la creazione di questo fondo di investimento che supporta le PMI italiane nell'implementazione e miglioramento di criteri ESG all'interno del proprio modello di business è per Acomea e GimmeFive il primo passo di un percorso verso un impegno crescente nei confronti di ambiente società e dipendenti addirittura nel 2020 il CEO di BlackRock che sarebbe la società di investimento più importante del mondo con un patrimonio gestito superiore agli 8.000 miliardi di dollari ha scritto una lettera proprio sottolineando l'importanza dei criteri ESG e degli investimenti responsabili e sostenibili indicando la direzione al tutto il mondo finanziario e sottolineando l'importanza proprio di queste tematiche in particolar modo quella sul cambiamento climatico e quanto la finanza possa fare tanto per combattere questo problema addirittura all'interno della lettera c'è scritto di come BlackRock si opporrà qualsiasi decisione presa dai dirigenti delle aziende che non rispettano proprio questi criteri di sostenibilità ambientale sociale e di governance ma rispettare tutti questi criteri da parte dell'impresa non ha un impatto esclusivamente da un punto di vista ambientale o sociale ma anche a livello economico infatti l'impresa adottando delle dinamiche che puntano più sulla profittabilità del lungo periodo rispetto a breve periodo e innescando alcune dinamiche virtuose si è visto che ottengono anche un rapporto rischio-rendimento migliore a tutte le altre imprese che non rispettano questi criteri di sostenibilità ambientale e sociale tutto molto bello quindi sì la finanza sta sicuramente facendo dei grandi passi in avanti verso la sensibilizzazione di queste tematiche e può avere un grande ruolo per la risoluzione di questi problemi globali in quanto decidere a chi dare i soldi e a chi non darli può modificare la struttura economica globale e quindi creare un'economia molto più sostenibile rispetto al passato ma come vi dicevo stiamo parlando di finanza etica e cosa c'è di più soggettivo dell'etica in fondo infatti purtroppo esistono alcune società oppure ancora alcuni fondi di investimento che dichiarano di rispettare i criteri ISG ma poi ad esempio andiamo a vedere che finanziano delle aziende petrolifere oppure ancora che hanno dei sistemi di produzione inquinanti oppure ancora uno dei problemi più importanti quando si parla di queste tematiche è il fenomeno cosiddetto del greenwashing e cioè aziende che dicono di abbracciare queste tematiche ISG ma lo fanno solo da un punto di vista di marketing o di facciata in realtà poi proseguono il loro business o non facendo nulla o facendo molto meno rispetto a quanto potrebbero purtroppo al momento non esiste un regolamento condiviso in questo senso anche se l'Europa sta cercando di muoversi ad esempio l'anno scorso proprio l'Europa ha stabilito una legge per cui gli operatori finanziari devono dichiarare la sostenibilità delle proprie operazioni oppure ancora esistono delle imprese private di consulenza che proprio vanno a monitorare quanto le imprese rispettano i criteri di ISG ma si tratta comunque di iniziative private che non hanno dei target condivisi da tutti sicuramente questi temi sono estremamente interessanti e cruciali per la salvaguardia di questo pianeta e saranno sempre più centrali all'interno del mondo finanziario ma non solo anche a livello di regolamentazione a livello nazionale però ecco in questo video io e Gimme5 che è lo sponsor di oggi tra l'altro bonus codice sconto economi 5 abbiamo cercato di darvi una opinione diversa riguardo al mondo della finanza molto più etica e attenta a tutte quelle tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti dei cittadini tematiche che l'opinione pubblica in genere trova assolutamente dalla parte opposta rispetto al mondo finanziario ma in realtà si stanno sviluppando sempre più spesso con dentro istituzioni tra le più importanti al mondo come ad esempio abbiamo detto BlackRock o JP Morgan detto ciò spero che questo video vi sia stato utile vi sia stato interessante e ci vediamo alla prossima puntata di Whatsapp Economy alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.